Buongiorno amiche, buon giovedì, sempre con la caramella in bocca, con la tosse, ma giovedì è arrivato anche per me, sono super contenta, anche per noi amiche mie, oggi sono contenta, ho trovato una fascetta lilla, quindi ho già capito probabilmente quale sarà il colore di oggi, come sempre, cocona a modo il lottatore di sumo, il pensiero carino di oggi è rispettiamo! C'è sempre la parola amo in questa bellissima parola, è importantissimo il rispetto, rispettiamo gli spazi altrui, i tempi altrui e anche i sentimenti altrui, secondo me è importantissimo rispettare per essere anche un po' rispettati, quindi diamo per ricevere anche, ma soprattutto diamo rispetto in modo disinteressato, Vedrete amiche mie che darà tanta soddisfazione e sicuramente darà, renderà tanta tranquillità e serenità, ma soprattutto noi avremo un po' di serenità e tranquillità a fare skin care! Come sempre abbiamo applicato il tonico, anzi la lozione addolcente di Shiseido Benefiance e nel contorno occhi, labbra e nello spazio tra le sopracciglia abbiamo applicato la crema contorno occhi di Shiseido della linea I Bucchi. E come sempre non può mancare il siero, stiamo utilizzando in questo periodo il siero Advanced Genifique concentrato attivatore di giovinezza di Lancome. E la crema, diciamo, è un concentrato sempre attivatore di giovinezza di Lancome, anche questo piccolo campioncino della linea Advanced Genifique. E continua a resistere, amiche ce n'è ancora uno sputo all'interno della crema Collo e Decolte di Clarence, ma mi sa che è quasi finita ormai. E la crema solare non deve mancare, quella che stiamo applicando in questo momento è la Daily Defender di Pupa, fluido protettivo 7 fattori con ginseng indiano ed SPF 50. Nel viso, mani, collo e Decolte, mi raccomando, proteggiamoci sempre dal sole. E nelle manine applichiamo anche un pochino di Body Love di Dove, super carina e super profumata questa crema. E oggi esageriamo con questo bellissimo primer di Emily in Paris, di Revolution. L'avevamo trovato nel calendario dell'avvento di Emily in Paris ed è super luminoso. Ma gini, pini, brufolini e gli occhiaie da pandina. Noi, amiche mie, anche oggi, anche se è un po' rauca, ma contrastiamo. Questi gini, pini, brufolini e gli occhiaie da pandina che per me sono genetiche col correttore e il fondotinta. Il correttore, super chiaro e super bello, è di Revolution, il Concealer Defining Colorazione C5. E il fondotinta invece di Deborah, l'Instant Lift, un fondotinta effetto lifting istantaneo con centella asiatica SPF 30. In colorazione molto chiara, mi piace tantissimo questo fondotinta. E invece la cipria è di Revolution, la Coconut Baking Powder delicatamente profumata al cocco. Super carina, la cipria come anche questo, bellissimo. Questa è una cipria, amiche, ma io la uso per fare un po' di contour e dare una sfumatura con la mossa del coniglio. È la My Skin Powder Cipria Uniformante di Bella Oggi in colorazione 352,48. Molto carina, mi piace tantissimo anche l'illuminante che utilizziamo oggi. È della linea Dreamscape di Puppa ed è molto molto bella. Mi piace tantissimo, stupendo anche il burro cacao perché è di labello. Il Pearly Shine, effetto perlato, con burro di cariteoli naturali arricchiti con vitamine. Ma un tocco, amiche mie, di volume boost di Bella Oggi ormai non può più mancare. È il mio preferito. Attenzione, attenzione, oggi è la regista che vi parla. Strega comanda color, lilla e nero dalla palette Mediterranean Frames Vietri di Bella Oggi. Sì, amiche, avevo annusato giusto. Nell'aria sentivo profumo di lilla anche perché a colpo d'occhio ho visto che avevo. A disposizione la fascetta skin care lilla, l'illuminante della linea Dreamscape che è il rosino lilla, la cipria coconut backing powder di Revolution che è il lilla violetto, il lip balm di Labello che è il Pearl Shine quindi sempre il rosino. Mi hanno detto arriva sicuro la palette che abbiamo unboxato ieri e infatti utilizziamo assieme il bellissimo lilla presente nella palette Vietri di Mediterranean Frames. Bellissimo questo lilla. Lo trovo soave e carino, per questo abbiamo fatto una base abbastanza chiara. E molto carina è stata la scelta anche del fondotinta che mi ha dato a disposizione il team. E' bello lilla, avete visto amiche mie, il rosino lilletto, anche il mascara che è il mega volume mascara di Wet n Wild. Bellissimo e il risultato di questo mascara è pazzesco. A volte se fa un po' di grumetti amiche io vi consiglio di pettinare le ciglia con un mascara finito con lo scovolino pulito diciamo. E io ne conservo sempre uno di terminato che è un bello scovolino per andare magari a spazzolare eventuali grumi dalle ciglia e andare appunto a dare un'idea bella di ciglia definita e pulita senza grumi. E non abbiamo messo il blush, il blush mettiamo il rosa presente all'interno di questa bellissima palette di Bella Oggi. Guardate che carino, secondo me ci sta benissimo questo rosa. Lo trovo molto bambolina, molto dolla ma anche molto dolce. Un brillo oggi assolutamente lilla e sempre nei toni lilletti anche il lip balm. Questo anzi più che un lip balm è un lip gloss con riflessi cangianti di Unspected Beauty Pupa. La colorazione è la 003. È uno dei miei preferiti. Mi piace tantissimo. Anche diciamo se sono mora mi piacciono tanto questi colori rosa, anche freddi, lilla e soprattutto cambiare. Sapete che io amo cambiare. Amiche mie, io vi mando un bacio grande, grande, grande. Ci sentiamo come sempre nei commenti e ci vediamo nel video del pomeriggio. Ciao amiche, buona giornata, a dopo, fatele brave.